Tiziana, allora tu da poco tornata da una bella tournette, Polonia, però ha fatto anche Stati Uniti, Canada Sì, un mese prima sono andata a Toronto, mi hanno poi riproposto di tornare, andrò alle cascate del Niagara, nuovo anno Poi mi hanno chiamato in Polonia e adesso continuo qui a presentare i vari brani Sempre rigorosamente in inglese Sì, perché il brano prodotto... Ah sì, ma lei ce l'ha questa cosa americana Che ne so, è una tara dalla nascita In ogni caso questo disco in inglese è stato prodotto da un polacco, Galaxy Hunter Per cui sono andata lì a promuovere questa serie di canzoni Poi Tiziana ha una pronuncia perfetta Del polacco? No, 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 no So solo, grazie, Ginkui, e in polacco il resto non lo so, è solo un po' di inglese Ma tu impari una predisposizione per le lingue straniere Mi impari subito, è vero Non lo faccio, ma in effetti il prossimo disco sarà in sei lingue e poi ve lo porto Però una brava come te Tiziana, non devi lasciare l'Italia No, no, io poi ritorno qui Vado intorno, certo, i fans sono sacri È la cosa più bella che ho in Italia Lo scrivo sempre Lo so Mancano gli addetti ai lavori Menomale che ci siete voi, perché qui è una tv libera E quindi ringrazio, perché qui si può presentare ciò che si vuole in modo pulito Grazie Beh, poi tu sei stata la prima madrina della prima edizione Quindi sai quanto sono legata a te Sono affezionata a voi e grazie per l'accoglienza ogni volta Grazie